Questa è la storia di un uomo un po' crudo nel sesso, che non aveva avuto mai contatto con una donna e che naturalmente voleva approfondire la cosa. Finalmente è arrivato il famoso sabato che si doveva sposare, allora il lunedì si recca a casa della sua fidanzata e la invita ad uscire, strada facendo lì gli dice ma dove mi stai portando? Cara ormai sabato sarei un marito e moglio quindi ti porto all'hotel, all'hotel ma tu sei matto, vedi che io voglio arrivare purissimo all'altare, guarda che possiamo mangiare anche all'hotel se vuoi, però non si fa niente. Arrivati in camera da letto, lui tutto è citato, si avvicina per toccare, ma lei quando voda te le devo dire che non mi devi toccare? Allora se non posso toccarti almeno fammi vedere qualche cosa. a questo punto per accontentarla lei si spoglia e gli dice vedere ma non toccare. Lui quando ha visto tutto quel ben di Dio esclama e dice quanto è bello, ma che bello bosco che hai, fammi avvicinare, ti prometto che non ti tocco. Quando era ad un palmo distante dal bosco, a non so e gli dice, madonna mia che punza, carmè, ma tu sei sicuro che avvenuto lo sabato non ci vuoi questo?